Stasera cuciniamo le lasagne, che non sono lasagne in realtà Qui c'è scritto mini lasagne, è pasta, però sembra il tappeto di ala di una miniatura Per me una volta messi a bollire prendono vita Questa è la lasagna giapponesa ragazzi, e la marca è Mama Il che è molto rassicurante perché tutte le mame fanno le lasagne con la pasta a forma di mini zerbino E poi con la salsa di pomodoro in polvere E boh, cosa c'è qua dentro? No, sembra il gelatinoso, sembra una confezione di sperma Yuri che c'è qua dentro? C'è il formaggio Ok, allora, cosa che andremo a fare stasera è cucinare le lasagne in versione giapponese Abbiamo qui della carne, è metà bovina, metà suina Mai meno fa E però non lo fa Non lo fa Abbiamo dell'acqua che servirà dopo appena andremo a fare la salsa L'olio, boh, non so perché abbiamo questo olio costosissimo organico In mezzo a sto scempio E questo Come si chiama in italiano questa? Ricchieri Boh, una miniteglia, una miniteglia Abbiamo un coltello che non ci servirà Abbiamo un cutting board Che non ci servirà Abbiamo un fornello, un forno Abbiamo una padella, siamo pronti E la prima cosa, seguiamo le istruzioni Di mamà Quindi la cosa da fare Dobbiamo ovviamente Rosolare la carne, abbiamo guocerla Che non la possiamo mangiare Inseriamo un po' di olio Mettero olio per favore Lo ci ha messo, lo ci ha messo, zitta Ora Facciamo un livello 7, potenza di fuoco 5 o 7 5 o 7 c'è una bella differenza Non è che tipo 5, 5 e mezzo 5, 25 Facciamo 6 Dicembre Dicembre? Sì, lo savo tanto 5G? Sì, va bene Quello è videocomplottista Però ci sta effettivamente con queste lasagne Ah, 15, 15 Ah, ma no, va bene Ma d'occhio, noi lo diamo a d'occhio Noi siamo così professional Mettiamo la carne Non mi piace questo mince Padre, non mi piace Solo per YouTube Ragazzi, capisci? Facciamo per voi Noi comprati questa carne Questo Merda Carne Ehm Solo per voi Capito? Dicchialo Dicchialo E scriveteli Scriveteli E' bel colore, guarda No, non è No, basta Poi che dice qua? Inseriamo l'acqua Dal 100 ml di acqua? 600 600? Così? No No Giuseppe No, aspezza Come aspezza? No, ma Buona 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 Vabbè, non la mangio La mangio io, non ti preoccupare Aspetta, aspetta Questo Prima questo Prima e poi l'acqua Prima questo Ok, inseriamo l'acqua Secondi Ok Dall'odore sembra ok Powder Ma è O non è Una bitch lasagna Mettere questo Piccolini Lasagna Qua? Sì Tutti? Sì Poi c'era tipo Manco 100 grammi di pasta Di questo Questo pacco dei cecchi Così, lasagna in luogo Insipido Ma niente A parte la bandiera italiana Made in Italy Ma la puoi mettere Made in Mama Con la bandiera italiana Poi, oddio Fine quality Fine smile Smile doesn't costa Any money Ok, sono passati Cinque minuti Sarà molliccia la pasta Sono sicuro Oltretutto Dobbiamo metterla anche in forno Quindi Stasera pastina Pastina alle lasagne Non hanno niente Che assomigli Vagamente non hanno la torna Nulla Non ci provo nemmeno Cioè, quantomeno la pasta Dio, buona la pasta Ok Tutto pronto Volevo dargli un po' di colore Però, neanche quello Non sembra pasta Sembra Cosa sembra? Che cos'è? So soft Ok Ok Non ci resta che provarla La mangiamo un cucchiaio Mi butto, Yuri Mi butto, ok? Non capisco il gusto della pasta Non ha gusto La consistenza non è poi così Ma, cioè No, sì Mi aspettavo di peggio per la consistenza Però Non è niente di che La salsa Non sento il pomodoro Sento molta Carne Sento molto il gusto della carne Ma Non si sente il pomodoro Assolutamente Non c'è pomodoro Non si sentono le verdure Perché probabilmente non ci sono nemmeno Non solo lasagne Né all'apparenza Né di gusto Né di concept Non è male il piatto di per sé Considerando che ci abbiamo messo non troppo Ma andavamo a 15 minuti in tutto Però abbiamo anche potuto utilizzare il forno Il forno Il forno costa, ragazzi L'elettricità Mane Ah, poi No Ho colto l'occasione per fare un video Grazie Grazie Grazie